che cos'è per te la libertà se penso alla libertà la prima cosa che mi viene in mente è la possibilità di amare chiunque io desideri ma la libertà è anche fare un tuffo in mare e sentire il calore del sole sulla pelle è cantare a scorciagola fino a perdere la voce è ballare senza paura di essere giudicata libertà è studiare ciò che mi appassiona e ottenere un lavoro grazie alle mie competenze è indipendenza alla fine per me la libertà è semplicemente poter scegliere la fine per me la libertà è semplicemente poter scegliere la fine per me la libertà è semplicemente poter scegliere la fine per me la libertà è semplicemente poter scegliere la fine per me la libertà è Lake Nani Grazie.